ciao a tutti ragazzi qui è zio degli animali che parla visto che me l'avete chiesto in tantissimi ho deciso di farvi vedere un altro dei jacky che io ho e che ritengo sia un'ottima ma veramente un'ottima scelta come sostituto per eventualmente un jack o leopardino come ho già detto in un altro video il jack o picta è un'ottima soluzione se magari a qualcuno esteticamente non piacesse il jack o leopardino che più di una volta mi è successo qualcuno mi ha detto ma me non piace tanto il jack o leopardino perché sta coda cicciona non mi piace tanto questo è sicuramente un'opzione veramente validissima andiamola a vedere più da vicino questo allora è un jack o un jack o picta come potete vedere è un jack o piccolino è molto più piccolo di un di un gioco leopardino diciamo che può anche assomigliarci un po però diciamo che una delle differenze più evidenti è la coda che è molto più sottile rispetto a quella che può essere quella di leopardino e alla testa che ha questi occhi molto grandi che lo fanno sembrare anche più cuccioloso diciamo così in realtà questa qui è una femmina adulta dovrebbe avere circa un anno e mezzo due anni e vi dico adesso questa nello specifico non è sanissima al cento per cento perché come potete vedere è un po è un po grassa cioè un po strabordante vedete la coda anche un po i fianchi è abbastanza grossa questo perché qui ho sbagliato io purtroppo perché ho dato un'alimentazione simile al jack o leopardino che però per questo animale è scorretta perché la dieta di un jack o leopardino si basa principalmente sulle tarme della farina però le tarme della farina tendono a essere grasse e diciamo che si devono usare come base di alimentazione solo per i leopardini io ho abbondato un po diciamo così anche con i picta e di conseguenza io adesso un maschio e una femmina che sono un po grassi infatti adesso sono un po a stecchetto gli sto dando un po meno da mangiare e gli sto dando solo ed esclusivamente grilli e blatte lateralis e quindi diciamo che nell'arco di due tre quattro mesi dovrebbero pian piano smaltire il grasso in eccesso e tornare al peso forma se adesso vedete a dei piccoli residui di muta sulle zampette infatti mi hanno mutato entrambi perché li sto facendo uscire dalla bruma e hanno entrambi mutato e hanno appunto alcuni residui sia il maschio che la femmina qua basterà o con un coton fiocco umido si passerà piano piano e dove si dovrebbero togliere tutti i residui il sessaggio è molto semplice parlando di esemplari adulti questa come vedete è una femmina il maschio presenta due grossi emipeni un po come può ricordare vagamente un ciliatus ha proprio un bel gonfiore qua ed è facilmente distinguibile parlando di esemplari adulti diciamo che questo gecko è molto bello perché esteticamente è molto simpatico ha dimensioni molto contenute ed è un animale molto resistente come può essere appunto un gecko leopardino diciamo che il suo pregio più grande è che è un animale molto adattabile infatti natura ha colonizzato tantissimi ambienti diversi passando da ambienti secchi come possono essere zone deserticole ad ambienti relativamente umidi come possono essere ad esempio delle foreste quindi quando si acquista un gecko picta diciamo che riguardo al suo arredamento ci si potrà sbizzarrire come si vuole dato che si potrà fare ad esempio sia un ambiente deserticolo semideserticolo un ambiente anche leggermente umido ovviamente conviene sempre non esagerare con le non bisogna mai andare agli estremi quindi rimaniamo cerchiamo di rimanere sempre su una cosa di media diciamo così però diciamo che oltre ad avere questo lato positivo hanno un lato negativo cioè che tante tante volte si trovano animali di cattura questi due nel mio specifico caso probabilmente sono di cattura quando un animale è di cattura diciamo che lo si può capire con alcune cose diciamo che la prima è lo stato di salute quando si vede un animale tanto magro o comunque che ha qualche problema di solito sono dei campanelli d'allarme un altro campanello d'allarme in questo caso è la coda se vedete questa coda la punta è rigenerata adesso non so se si veda bene nel video ma se vedete in questo punto qua la coda cambia leggermente pattern perché appunto molto probabilmente è un pezzettino rigenerato adesso non ne sono sicurissimo perché non conosco troppo bene i picta perché non ne ho visti tantissimi durante la mia esperienza però a me cambiando anche leggermente forma se vedete all'attaccatura è abbastanza lineare dopo pian piano inizia a essere un po un po un po storta questo potrebbe probabilmente possono essere state o delle carenze oppure magari è stata una lotta la cosa ha perso un pezzo di coda e di conseguenza si è rigenerata e si è rigenerata male perché come sapete quando un animale perde la coda quando gli si rigenera non si rigenera bella come prima ma avrà qualche differenza come colorazioni il gecko picta e diciamo che non è come il gecko leopardino che ha 200 milioni di colori e di pattern diversi questo nel mio nel mio caso è normal o ancestrale come si vuole definire diciamo il colore base che hanno anche quelli in natura proprio per questo questo aumenta la probabilità che questo sia un animale di cattura e non ne esistono tanti tipi so che c'è la xantic che è una colorazione che tende al bianco quindi avrà ad esempio delle striature molto grandi bianche o comunque avrà delle zone molto molto chiare e poi ce n'è anche un altro tipo che adesso però mi sfugge il nome quindi non riesco a dirvelo però so che ci sono normal axantic è un altro tipo diciamo che non si avranno mai dei colori sparati come può essere leopardino arancione o tanti pallini tante cose delle striature però diciamo che anche qua pian piano col passare del tempo si riescono a sviluppare delle colorazioni particolari questo qui è il mio esemplare maschio come vedete ha una colorazione più scura è già più bellino rispetto alla femmina la coda se vedete questa qui è perfetta non ha non ha tagli è tutta uniforme come colore come forma e come dimensione se vedete è proprio una bella coda è un po grossa sempre per il discorso dell'obesità che vi dicevo prima come animale comunque se vedete è molto bellino ha degli occhi molto grandi e come vi dicevo prima per il sessaggio adesso un attimo che è un po agitato come vedete questo qui presenta i due le due sacche degli emipeni vedete adesso nel video non si vedono benissimo però ha proprio due belle sacche questo qui è chiaramente un maschio ovviamente un esemplare giovane bisognerà prestarci molta più attenzione ma hanno un accrescimento abbastanza rapido quindi diciamo che trovare da qualche parte un esemplare adulto non è così difficile come gestione è abbastanza semplice un po come leopardino avrà bisogno di una zona una zona riscaldata con circa 30 gradi e potrà essere fatto questo sia con un tappetino riscaldante oppure con uno spot io personalmente preferisco sempre usare il tappetino quando lo posso usare però in questo caso se optate per un terrario deserticolo semi deserticolo potrete utilizzare ad esempio uno spot perché con la sabbia ci sta bene lo spot se invece provate a usare un ambiente un po più umido con qualche piantina qualcosa in quel caso conviene utilizzare un tappetino la lampada uvb come per il gecko leopardino si può utilizzare utilizzarla è meglio ma non è obbligatoria se in compenso verrà integrato il calcio con la vitamina d3 quindi anche qui è sempre a scelta nostra come andiamo più comodi se preferiamo comprare una lampada ogni sei mesi oppure comprare una confezione di calcio con d3 e anche quello ogni 6-7 mesi cambiarlo perché la vitamina evapora e quindi diventa calcio puro quindi a livello di costo è praticamente identico cambia solo diciamo il nostro approccio con eventuali accessori come vi dicevo prima avrà una dieta basata su piccoli insetti quindi parlando di grilli medi o laterali smedie tarme della farina poche 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 quindi se ne potranno dare 2-3 alla settimana a esemplare anche se a quel punto se avete solo un animaletto così vi sconsiglio di comprarvi il pacchetto di di tarme perché ne userete veramente poche e col tempo andrete semplicemente a perdere perché o vi mutano o muoiono quindi conviene basarsi su grilli e blattine è un animale molto bellino come vedete è tranquillo adesso ovviamente siamo all'inizio del pomeriggio quindi è abbastanza dormiente la sera probabilmente è molto più attivo però è un animaletto bellino è piccolo quindi questa diciamo può essere un'opzione interessante per chi magari non ha tanto spazio per dedicarla a un terrario o a un box come misure io vi consiglio almeno un 40x30 per un singolo esemplare eventualmente se si pensa a una coppia o un trio di conseguenza si aumenterà le dimensioni per una coppia diciamo che l'ideale sarebbe un 60x40 avrà bisogno di ovviamente le solite cose quindi parliamo di tane qualche arredo all'interno come può essere un qualche tubetto di corteccia qualche sasso qualcosa dove arrampicarsi ho visto che apprezzano molto anche lo sfondo 3d io li sto tenendo in un 50x40 con lo sfondo 3d roccioso e ho visto che la sera molto spesso li trovo arrampicati sulle mensole che fanno qualche piccola esplorazione l'accoppiamento dovrebbe essere abbastanza semplice come per il gecko leopardino come per il gecko leopardino bisognerà fargli un periodo di bruma quindi a una temperatura abbastanza bassa solitamente sotto i 18 gradi per un mesetto poi pian piano gli si andrà ad aumentare la temperatura fino a tornare ai soliti 30 gradi in quel momento si potrà procedere all'accoppiamento e come leopardino una volta al mese circa verranno deposte una o due uova dovrebbe farne due ma ad esempio a me ne ha già deposta una sola purtroppo non me ne sono accorto perché era un uvetto veramente piccolino non sono neanche sicuro fosse fertile non l'ho notato e quando l'ho visto purtroppo era già mezzo seco quindi ho dovuto smaltirlo come vedete adesso pian piano inizia a prendere sempre più confidenza io sarò sincero questo gecko qua non l'ho mai maneggiato perché non ne ho mai avuto la necessità le feci sono piccolissime sono veramente di facile pulizia e quindi non è mai stato necessario appunto muoverlo se non magari per fargli una foto o quant'altro come vedete non è un animale particolarmente scattoso anche se sempre state attenti perché nel caso fosse un animale di cattura se gli partono i 5 minuti vi fa un paio di scatti e non lo vedete più quindi sempre tenerli controllati mai lasciarlo lì che dico ma si lascia la teca aperta 2 minuti finché vado in bagno a cambiare l'acqua perché in quel momento c'è il rischio che vi partano in un istante io ovviamente vi sconsiglio esemplari di cattura perché non ha senso risparmiare 20, 25, 30 euro di acquisto se ad esempio un esemplare costa facciamo conto 50, 55, 60 euro CB quindi captivity born nato in cattività non ha senso andarlo a pagare 20, 25, 30, 35 euro magari di cattura che dopo quei soldi li andiamo a spendere di veterinario perché quando si ha sospetto allora di base bisognerebbe sempre fare le analisi a tutti gli animali se sono di cattura ancora di più perché se ha parassiti, problemi e tutto quanto bisogna intervenire il prima possibile e vi posso assicurare che un veterinario di esotici non è economico quindi meglio spendere 20, 30 euro in più e prendere un animale che ha un'altissima probabilità di essere sano piuttosto che risparmiare 20 euro e dopo o vedere un animale morire perché appunto ha dei problemi o comunque spendere tanti soldi di veterinario io i miei li ho pagati non mi ricordo sinceramente adesso quanto li ho pagati comunque li ho pagati una cifra che mi lascia nel limbo tra capire se erano di cattura o meno comunque sono con me da ormai 7-8 mesi non mi hanno dato alcun tipo di problema se non l'obesità di cui vi ho accenato prima quindi io sono diciamo tranquillo ho comunque fatto fare le analisi delle feci non sono risultate negative quindi non avevano alcun tipo di parassita quindi io sono abbastanza tranquillo non mi sembra ci sia nient'altro di importante da dire nel caso come sempre per qualsiasi dubbio o perplessità lasciatemi un commento scrivetemi su facebook o su instagram mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video